oh capi c'è in chat eh ok martos capi no non dovevo leggerlo te lo giuro l'ho visto contesto contesto dopo lei bene anche per me non va a finire molto bene sony night edilizia number 2 di mente no 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 vuole smg però capisci ma fallito bravissimo fra hai fatto no comunque mi sa che c'entra questo c'è e con le smg fare sta roba qua impossibile corretta ospite che abbia visto Ma quando le rimando alla chiesa l'avevo, quindi? Ok, no. Andre... Ma perché suonisci? Fagli capire che qua... Comando le strade. È una strata. No, però io, c'è. C'è un chiesa proprio, non so. No, ma sparano pure lì. Ah, spavano da una stella. Eh? Beh, spavano da una stella. Ah! Ok, no. Hai pure un lift. Niente. Ma no. Così non mi veda. No. Mi spia... Ti giuro. No, perché mi... Perché mi fullo di funghetti tanto. Ma i problemi... C'è fatti ricoverare, zio cane. Io non posso... Ho capito, ma è fortissimo. Ma ti giuro, ma hai rotti timpani? Ma tutto bene, frate. Vabbè, allora... Basta, lo muto. Pushing! Cheitta e gli ha snappati. Uh, fai da no. Di brutto. White. Ci giuro una di vita. Ah, ne ho detto, box. Ci giuro una di vita. Morto, morto, morto. Mio, mio, mio. Arrivo, arrivo. C'è me tu? Pensa la kill. Ah, ne ho detto. Una è sotto e una è sopra. Va a prendere il loot. Oh, Dio. Eh, 69 io ho fatto quello lì. Sono insieme? Sì, sono insieme. Bianco, bianco, bianco. 50 ti capisci, la bava natalina. Non si è ancora curata, non si è ancora curata. Si vuole fare un chug, si vuole fare un chug. Arrivo, arrivo, arrivo. Guarda me. No, morto, 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 morto. Mio vissi. Una lettera dell'alfabeto che proprio ti piace di più. A me la M e la K. Non a caso, il money claim, me l'ho messo con la K. Ha un senso, effettivamente. F. F? Francesca? Frangetta? Ah, frogs! Eh, sì, ecco qua. Come hai fatto? A capirlo. Mo, francesini? Non capisco. Ma capisco, abbiamo una giornata, fermo. No, è qua, è qua, è scherzato. Stavo stessero spiegando questo. Bombarda, bombarda, bombarda. Ancora, box, 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 box. Non capisco, non capisco. Che che spara, che che spara? Oh, bomba, bomba, vieni qua, vieni qua. Arrivo, arrivo. Hanno il taccone. Fatto, fatto, fatto. Andiamo. Mamma, ho pensato che fosse una zip. Oh, è qui? 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 È qui, sono io. Sì, c'è di sì. Oh, è qui? hai preso il tattico almeno c'è un gap bravo vai 70 risalita di white carico tutto lo vedo credito ai rapine mara rapine mara ora mi accorgo subito quando uno vuole far uscire una cosa lunga una volta che le cose lunghe non convengono ma tira zia fino uno va bene va bene va bene va bene c'è uno sopra che sono due sopra rapine ok sono il legno sono il legno 70 tutte e due hanno ritato risto arrivano ultima di molti capi non ho niente deve aspettare un attimo di far solo box mi resisti ti giuro che torno torno subito a uno si è spostato molto più avanti ora lì caccato niente madonna mi ha fatto tipo 160 potrei anche prenderla cialati io l'ampino 120 box white martinia posso curare un secondo non fare non fare non fare non fare non fare non fare la fettigio box arda novella in capo con the kill e che io non il racchiettivo sta difficile abbiamo fatto un sacco che bello il taccone comunque giro è poco forte fatto che spari che spari così così veloce c'è mamma mia veramente op la città